buongiorno ragazzi stamattina vi porto con meno una mia sessione di allenamento non sono in super grinta per niente anzi sono molto scarica però appena preso il mio pre workout e iniziato a fare effetto adesso nel frattempo milano completamente deserta bellissima meno gente c'è più bella è e niente andiamo da luca ragazzi perché oggi secondo me luca mi spacca oggi registro perché compagno di allenamento sei pronta questo video youtube ciao luca dai come dire che si ferma non riesco a passartela mi ha venito? no dai due le mancano più due ma ci hai ucciso oggi luca? dai nessuno ragazze uscirà cambio scarte ragazzi e siamo pronti stavo dicendo oggi registriamo la sessione luca sei pronto lo mettiamo alla prova pronti via vabbè si facciamo con con i salti sul cubo le trazioni facciamo le spiglie sopra ok quindi braccio braccio esatto e poi con i salti dal pavimento facciamo le saltate allora che poi non ci arrivo a sfruttare si e sono ho quindi otto salti il primo è fatto in quattro trazioni quindi un salto con una trazione un salto con un salto con una trazione per quattro volte cioè sono anche otto volte in quattro trazioni quindi la meta 1 2 3 golli 10 saltate laterali per un minuto via No, 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 no. terza bella aspetta che bisogna una notte sei in setto guarda il taglia va bene perché così almeno l'ultimo è proprio bello via uno due tre fai così infatti è molto meglio quindi memorizzati come lo stai con me praticamente un centimetro l'opera di ingriniatura brava aspetta un po tipo 10 secondi gli ultimi due Upla. Solo di aspetta allora. Faccio quella foto. Ma mancano due secondi. Daj, bravo, bravo, bravo. Uno, bravo sudi. Due, bravo. Tre, bravo sudi. Opla. Vabbè più leggero. Sì, ma è di poco acqua. Sì. La prima parte è fatta. Sei pronta? Tu ancora in felpa? Sì. Tu devi fare con questa sbarra quattro. Ok. Invece io? Esatto. Alzarti e? E alzate laterali. Con le alzate laterali prendi cinque. Invece che con i gialli. Con i gialli invece di avere un minuto ne fai sei. Pensando di due pausa. Quindi. Uno. Due. Pausa. Ah, ok. Due. Uno. Due. Vabbè solo sei forse ce la posso fare. Brava Lori. Se c'è anche qui non fai. 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 Se c'è anche questa mazza. È colpa tua che non devi tangerla. Stop Lori. Quanti ne fatti? Sei. Buono, buono. Lo teniamo nei sei. Detiamo nei sei. Sì, scopi. Un po. Sì. Dai, allora. Inquiltrata. Treinta secundi un dia. E' salta il tempo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Up. Due. Trezza. Via. L'vermozzo. Due. Una. E' andata. Stop. Via. Up. Vai. Ancora. Due. Up. Giù. Giù. Mancano altri tre giri. Tre. Tre. Non poterla. Alta il pettorale. Ma ti toglie una filpa? Bisogna vedere. Via. Uno. E brava. Due. E. Tre. E. Quattro. No, noi facciamo musiche, amici. Fai lì. Stai nei cinque stanzi a vuoto e poi facciamo solo situazioni di concentrazione. Una. Andiamo. Due. Quattro da parte sopra. Tre. Così. Buono. Quattro. Buono. Ora stai su. Ok. Giù. Facciamo una pausa, una pausa, una pausa. Vai. Iniziamo la seconda serie. Cosa metti? Iniziamo il mercoledì trazione l'altro giorno. Qui parte solo di sotto. Va bene? Ma le facciamo già. No, no, no. Le facciamo. Il mercoledì non le facciamo. Ah, ok. Le facciamo solo di venerdì. Le facciamo solo di tornare a fare venerdì perché è troppo pubblicato. Non lo non è. Iniziamo la po' di tempo. Trinta un po' di tempo c'è questo. Dato alla pende, gliela da, torna indietro, devi andare. Sfattati con 1.000 sciro e però sdraiati. Dove lo metto un po' più qua perché se ne lasciano qua? Un po' di tempo. Oltre in tutto il mondo e l'altro, vieni qui. E quindi sì. Sfattati. Sfattati. A. Sfattati. 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 ma che mila che sono? sei miglior anni brutti brava guarda possiamo andare all'olipide? della falla è storto però torta? no, quelle di prima erano tutte storte tutto corto quanto parco demonio manca sette secondi vai 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 stop ci stiamo tutti e due da sdraiate proprio? si partite da sdraiate vai cacau non devi dai vai cioè sei in mezzo vabbè allora la palla deve partire da dietro e deve toccare dietro un punto così? si, via ecco la mia vai lanciagli ah in realtà avvicinarsi è troppo pesante avvicinati brava via 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 ok no se stacca vediamo vedi ne faった niente io ma li sono diamati sui esercizi? guarda, sì oh, non lo faccio cos'è questa maledetta? guarda su, 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 su ma poi io aggia, non spingermi mi sto sbattendo con i piranceli dillo che mi va a buonizzarlo vedi, quello qua non basta, fate l'ultimo stop vai, cavoli no, io non faccio quella ma come no, perché sei per cinese mi sta in qualche modo questo, come si chiama palazzo per un caschetto scusami via dai, quella dita mi viene in caschetto mi chiama troia troia ma mi schiacciate che ti faccio non è un ebelgi vai, vai manca, eh dai, dai oh, è finito via vai un po' in là dove sei portato? mi sei avvicinata vai un po' in là vai un po' in là mi hai detto che sei male dai uno, due via non è stingo lei vuole che mi danni così si può andare da sola dai 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 e poi scusa ci dobbiamo pregare anche quando non abbia la palla no io faccio da sola ma scusa cosa facciamo insomma per aspettare che tu scendi ma guarda non scende dai che è l'ultimo vabbè io l'ho fatto dai via palla dai uscita hai iniziato questo giro dai tirati su via via ci puoi metter male in te? sei a buono sono mai il mondiale che mi c'è di grava ssh 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 Sì, Mila e Shiro hanno vinto il campionato, siamo stati troppo bravi oggi, a parte Luca che ci cazzea, ma ti pesi? Sì, io mi peso. Io no. Perché? No, perché ieri ho fatto schifo, ragazzi, quindi so già che il mio peso non è misurabile. Comunque, la lezione di oggi si completa oggi con la super felicità di Luca. Sei contentissimo, vero? Molto contento. Siamo bravi, no? Sì, bravissime. Ragazzi, alla prossima. Ciao!